27 agosto 1770. Nasce a Stoccarda il filosofo idealista Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1807 pubblica la Fenomenologia dello Spirito. Chiamato nel 1818 a insegnare all'Università di Berlino, comincia il periodo del suo massimo successo. Hegel muore a Berlino il 14 novembre 1831. Postumi vengono pubblicati i suoi corsi, lezioni sulla filosofia della storia, estetica, lezioni sulla filosofia della religione, lezioni sulla storia della filosofia.